Le scuole di competenza del comune sono le scuole dell'infanzia, le elementari, le primarie, le scuole secondarie di primo grado, quindi le medie. E lì ho visto che i genitori si sono impegnati tanto, sono stati attenti con le mascherine, cercando di essere anche distanziati per quello che era possibile negli orari di apertura e di chiusura delle scuole. E quindi credo che sia ingeneroso dare a loro una responsabilità che probabilmente un po' ricade su altri e un po' è legata anche a questa aumentata contagiosità del virus che naturalmente in un luogo come la scuola crea delle situazioni di facile contagio. Ma quindi sicuramente internamente alla scuola e non all'esterno, all'aria aperta con le mascherine. E credo che sia davvero difficile da quello che dicono i medici e gli scienziati, non lo dico io, che all'uscita, all'entrata delle scuole, rispettando le misure di sicurezza, con una semplice mascherina si possa favorire il contagio. Nel comitato per la sicurezza purtroppo è stato mostrato al sindaco una relazione della ASL che mostrava proprio un aumento dell'incidenza dei contagi nella fascia di età dai 3 ai 12 anni. Quindi proprio quella delle scuole che sono di competenza del comune. Per cui siamo stati costretti, il nostro malgrado è stato costretto il sindaco ma con l'appoggio naturalmente di tutta la maggioranza e l'amministrazione a prendere questo provvedimento drastico che speriamo sia il più breve possibile. Io direi che possiamo finirla con lo scaricabalire delle responsabilità, dobbiamo invece lavorare tutti quanti insieme per trovare delle soluzioni e per far rispettare alla lettera tutti quanti questi protocolli di sicurezza che sono gli unici che possono portarci a una gestione, a una vita normale nei nostri plessi scolastici.